Innanzitutto questa conferenza stampa è indetta ovviamente dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Don Traiate della Provincia di Imperia, ma su una iniziativa a livello di Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, che è partita nel maggio ultimo scorso con una battagio pubblicitario veramente importante, con una conferenza stampa appunto nella sede romana della Federazione, alla presenza di illustri immunologi piuttosto che illustri figure anche della stampa eccetera. È un'iniziativa che la Federazione ha voluto fortemente proprio per fare in modo che il cittadino non cada in queste fake news, ovvero in questi tranelli che ci sono ormai sui siti più diffusi eccetera eccetera e che abbia sempre come punto di riferimento il medico. Il medico deve essere soprattutto anche il medico di medicina generale, deve essere colui il quale dà le dovute informazioni a cui quindi il cittadino si deve assolutamente rivolgere. Lei ha detto prima fake news in ambito vaccini, beh in realtà no. Oggi la conferenza stampa verte su due argomenti che peraltro fra di loro si intrecciano molto bene perché le fake news non riguardano ovviamente solo i vaccini ma riguardano molte patologie, molte malattie che oggi lo dico in maniera ovviamente negativa grazie a internet o grazie ad altri siti vengono segnalate e come posso dire da un punto di vista terapeutico e quindi vengono date informazioni sbagliate che so io la cura dei tumori col bicarbonato un esempio eccetera per cui anche questo è un argomento che va oltre a quello che è solo dei vaccini. Quindi direi che come ho detto poc'anzi sono due argomenti di fondamentale importanza che noi riteniamo come ordine provinciale di dovere segnalare, di dovere fare in modo che appunto il cittadino si rivolga sempre al medico di fiducia piuttosto che al medico ospedaliero. Purtroppo oggi la diffusione di un certo tipo di cultura non fondata su evidenze scientifiche ma fondata semplicemente su opinioni, su credenze, è molto diffusa a livello mediatico e riesce ad avere molto credito presso la popolazione e quindi è importantissima un'iniziativa come quella dell'Ordine dei medici che mette in luce l'aspetto scientifico di un trattamento qual è quello vaccinale che deve essere sempre affidato a figure professionalmente competenti e non può prescindere dall'indicazione del medico. Posso ancora aggiungere che a livello aziendale siamo impegnati su due fronti, uno che è quello delle vaccinazioni obbligatorie che vengono svolte attraverso il Dipartimento di Prevenzione e i medici dei servizi vaccinali e l'altro anche quello degli operatori del servizio sanitario che attualmente hanno prodotto una serie di autocertificazioni sul loro stato vaccinale e attraverso i medici competenti stiamo cercando di diffondere anche fra gli operatori la filosofia di una vaccinazione consapevole per le vaccinazioni che sono ancora prevedibili nella popolazione adulta. Inoltre noi abbiamo anche un aspetto che è quello delle vaccinazioni anti-influenzali durante il periodo invernale che stiamo diffondendo non solo a livello della popolazione generale ma anche e soprattutto a livello degli operatori sanitari per limitare i danni provocati dalla diffusione del virus influenzale.